E se vi dicessi che esiste un modo per guadagnare delle cripto soltanto camminando, e vi giuro che è così, ve lo avevo già promesso nel video di Young Classroom, vi avevo promesso che vi avrei portato in video appunto un'applicazione che ci permette di guadagnare delle cripto con un contapassi, ed eccoci qua. Benvenuti su The Stalkabout, io sono Saga e ne parliamo dopo la sigla. Prima di cominciare come sempre ti chiedo di lasciare un bel like su questo video perché mi aiuteresti tantissimo a far crescere il canale e se non l'hai già fatto anche di iscriverti al canale e premere anche sulla campanella così verrà aggiornato non appena pubblicherò un nuovo video. Dunque quello che voglio farti vedere oggi è un'applicazione che fa sempre parte di Young Platform, che ti permette appunto di guadagnare semplicemente camminando. L'applicazione si chiama YoungStep ed è una sorta di contapassi, è un'applicazione ben fatta, si collega ovviamente al portafoglio di Young Platform e appunto c'è questo contapassi integrato che ci genera degli Young, che è il token di Young Platform. Il funzionamento è semplicissimo ma attenzione perché questa applicazione non ha solo un metodo di guadagno, ma ne ha ben tre. Uno appunto con un contapassi, due con un giochino dove praticamente dobbiamo prevedere se una coin andrà a salire o a scendere. C'è un up on down, se noi scommettiamo su up e poi quella coin va a salire nelle prossime tre ore riceviamo degli Young, se invece ci sbagliamo semplicemente non riceviamo nulla, quindi non si perdono soldi assolutamente, è proprio una cosa tranquillissima e sicurissima. È una sorta di giochino insomma pensata per i principianti in modo che a forza di vedere i grafici e giocare sul up and down vanno poi a imparare a leggere il grafico, il suo discorso è quello. Ma il contapassi e il giochino della previsione non è l'unico modo che abbiamo per guadagnare. Young esiste un terzo modo che è quello dell'academy, questa è la cosa secondo me più riuscita dell'applicazione. Ovvero ci sono dei corsi per principianti, quindi corsi fatti molto basilari ma molto precisi e se noi seguiamo i corsi, oltre a imparare chiaramente qualcosa, veniamo pagati anche qua con The Young. E sono corsi davvero su tutto perché ci spiega che usa bitcoin, ci spiega come funziona la blockchain, ci spiega come utilizzare la blockchain, ci spiega davvero un sacco di cose. Per i principianti è un'applicazione assolutamente da avere. Se uno non ha voglia di sbattersi sui corsi perché magari è già un utente un pochino più avanzato, può anche non farli, semplicemente prende i soldi dal contapassi e dalle previsioni e voilà. L'applicazione appunto si chiama Youngstep e si collega a Youngplatform, quindi ovviamente per passare i soldi da Youngstep a Youngplatform dobbiamo avere un account Youngplatform, ovvio. Vi ho fatto già dei video su Young, se volete ve li lascio qua sotto in descrizione, recuperateveli. La cosa buona se vi iscrivete a Youngplatform con il mio referral link avrete subito 10 euro in regalo, possono diventare fino a 25 euro se invitate altri amici. Quindi che cosa dobbiamo fare noi? Ovviamente link qua sotto vi iscrivete a Youngplatform, vi prendete anche il vostro bonus di 10 euro, poi sempre il link qua sotto vi iscrivete a Youngstep. Scaricate sia Youngplatform che Youngstep e cominciate ad utilizzare Youngstep. Quando avete abbastanza Young e volete trasferirveli, ve li trasferite su Youngplatform e da lì potete o convertirli in altre cripto o detenere Young se volete detenerla o semplicemente la girate in euro e poi vi fate il bonificio in banca. Quindi sì ragazzi, con questa applicazione si guadagna in modo completamente gratuito, semplicemente camminando, giocando col giochino della provisione e volendo anche imparando. Per capire bene come funziona, è tutto molto basilare, proprio a prova di utente principiante, comunque ci spostiamo sullo smartphone, vi apro l'applicazione e vi faccio vedere come funziona. Insomma, quindi seguitemi sullo smartphone. Dunque, questa è la home page di Youngstep. Come vedete, abbiamo prima di tutto un contapassi. Se io premo claim, vado a raccogliere i passi che ho accumulato. Fate attenzione perché potete accumulare al massimo 4.000 passi, poi il contatore si ferma. Quindi vuol dire che io devo fare il claim prima di arrivare a 4.000 se non ho da buttare dei passi. Per esempio adesso sono 1.696, se io faccio claim, vado a raccogliere i miei passi e il contatore torna a zero. Qua sotto ho i vari obiettivi che mi danno gli Young. Ad esempio, riscatta 5.000 passi, obiettivo raggiunto, io premo riscatta premio e mi dà le Young. Vinci 3 previsioni, l'ho fatto anche questo e riscatto lo premio. Adesso vi faccio vedere anche come funzionano le previsioni. Quindi, primo metodo per guadagnare gli Young in modo gratuito, chiaramente con i passi e riscattando i passi. Secondo metodo, appunto, con le previsioni, questo giochino, vi faccio vedere. Basta andare sul tastino up and down e qua abbiamo le principali crypto. Io uso sempre Bitcoin e Ethereum. Voi potete fare due previsioni contemporaneamente. Come funziona? Io ad esempio premo Bitcoin e decido se fare una previsione a rialzo o a ribasso. In questo caso, mettiamo che voglia farla a ribasso. Quindi prevedo che Bitcoin vada giù, premendo down, e posso fare 3, 6 o 12 ore. Più, guardate un po' il premio, più io alzo il tempo e più il premio vado ad aumentare. Quindi mettiamo che voglia fare un 3 ore, quindi guadagnerei lo 0,05 se c'è azzecco. Li do, prevedi, e se tra 3 ore Bitcoin sarà sceso rispetto al valore di ora, io guadagnerò 0,05 Young. Se invece sarà salito, semplicemente non guadagnerò nulla. Quindi non si perde nulla, è a sbagliare, semplicemente non si guadagna. Un metodo che uso io spesso, quando la situazione è un po' incerta, che faccio? Metto Bitcoin giù ed Ethereum, li dico up. In questo caso, almeno 1 di 2, all'80% la si va a prendere, perché comunque sono abbastanza simili gli andamenti di Bitcoin e Ethereum. Poi per carità, può essere che non è beccata neanche una, o magari li beccate tutte e due, giocandone una in un modo, l'altra nell'altro. Se invece avete magari una previsione più bullish, potete benissimo mettere tutte e due up e vi pigliate il doppio premio, se ci azzeccate. E voilà. Terzo metodo per guadagnare Young è appunto la categoria Education. Sì, io vado su Education, ho una marea di corsi da fare, ma una marea ce n'è davvero tanti. E come vedete, guardate un po', completando questo corso che ci spiega che cosa è la blockchain, ci dà già 9 Young. Completando questo qua sulle criptovalute, ci dà 10 Young. Completando questo qua sulla cripto economia, 2,20 Young e così via. L'applicazione è piena di corsi, ce n'è tantissimi. Ma che cosa fare poi per trasferire questi Young che ho fatto? E chiaramente monetizzarli, quindi trasferirli in euro e poi fare un bonifico sul conto corrente. Beh, ovviamente ci serve Young Platform. Quindi dobbiamo installare, se non l'abbiamo fatto, Young Platform e crearci un account. Che cos'è Young Platform? Vi ho fatto già un video dedicato, ve lo lascio in descrizione. E un exchange tutto italiano, che tra l'altro vi dà un bonus di benvenuto. Appena vi iscrivete, vi dà subito 10 euro. E dopodiché, se invitate anche tre amici, potete ancora avere 15 euro. Quindi per un total di 25 euro. Se non invitate nessuno, vi pigliate i vostri 10 euro. E vabbè, meglio che niente comunque. Fatto questo, una volta che avete creato il vostro account su Young Platform, o se ce l'avete già, potete agganciarlo. Io ora ce l'ho già agganciato, quindi non ho l'opzione. Se non ho in questa finestra, avrete l'opzione di poter agganciare Young Step con Young Platform. Fatto questo, premete sulla freccina qua in basso a destra, rossa, e create una gift card. Vi create una gift card da soli per quanti Young avete. Per esempio, io ora ho 44 Young, mi sembra che la piccola gift card sia da 50, se non sbaglio. No, è 45, insomma ci sono andato vicino. Posso chiaramente creare una gift card più grande a seconda di quanti Young ho. Posso creare ovviamente più gift card e me le mando gratuitamente su Young Platform. Come faccio? Semplicemente premo avanti. Adesso mi manca pochissimo per quella da 45, quindi non me lo fa fare. Premendo avanti mi ritrovo poi 45 Young su Young Platform. Una volta su Young Platform posso prendere i miei Young e venderli per euro. O comprarci altre cripto, posso farci davvero quello che mi pare. Se voglio monetizzarli subito appunto li converto in euro e poi faccio un bonifico sul conto corrente. Quindi ragazzi, con questa applicazione di Young potete davvero guadagnare delle cripto completamente in modo gratuito, solo camminando. Se ogni tot usate il minimo sforzo di fare la previsione, vi beccate anche quella della previsione. E la cosa veramente fighissima di questa applicazione è che se vi fate i vari corsi, oltre a imparare una marea di cose, perché questi corsi sono fatti davvero davvero bene, sono stati davvero eccezionali i ragazzi di Young Platform a fare dei corsi fatti così, perché sono per dilettanti, quindi per chi davvero ne sa poco, sono spiegati benissimo e vi assicuro che imparate una marea di cose. In più, imparando una marea di cose, vi fate anche degli Young, quindi insomma imparando andate a guadagnare. Ah ma attenzione perché scordavo un altro metodo che lo uso veramente poco io, ovvero premendo sulla coppa qua ranking, noi possiamo creare una sfida o partecipare a una sfida, ovvero entriamo in competizione con la gente sulla questione contapassi, quindi vince chi fa più passi, ricordatevi che però vengono accumulati solo 4000 passi, quindi dovrete fare il claim un sacco di volte. Chi vince, per esempio qua vincono nella sezione sprint verde 3 vincitori, relax 5 vincitori, nella sezione runner viola 10 vincitori. E chiaramente chi vince, vince anche qua degli Young, quindi io questo non lo uso mai perché non faccio così tanti passi, ho provato un paio di volte e ho perso miseramente, quindi non la utilizzo, ma se qualcuno fa tanti passi e ha la possibilità di poter riscattare sovente, è sicuramente un metodo in più da utilizzare. Io direi che per questo video è tutto, trovate in descrizione del video sia un video dove vi spiego bene come funziona la platform e perché per noi italiani è un exchange assolutamente da avere e da utilizzare, e vi spiego anche in un secondo video come avere il bonus di benvenuto fino a 25€ praticamente in modo completamente gratuito. Io vi ringrazio di essere arrivati fin qua, se il video vi è piaciuto vi chiedo di lasciare un bel like e se non l'aveste già fatto anche di iscrivervi al canale e premere anche sulla campanella. E noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!